come schweig fu cacciato dal manicomio quando in seguito schweig raccontava la sua vita al manicomio lo faceva in termini straordinariamente entusiastici non riesco proprio a capire perché i pazzi si arrabbino a stare l'inchiusi lì la gente può rotolarsi in terra tutta nuda urlare come uno sciacallo fare le furie ed armorsi se si facesse qualcosa di simile a passeggio tutti resterebbero stupefatti e invece lì è la cosa più naturale del mondo là dentro c'è tanta libertà che non se la sognano nemmeno i socialisti lì una persona può farsi passare per dominè dio o per maria vergine o per il papa o per il re d'inghilterra per sua maestà l'imperatore o per san venceslao quantunque quest'ultimo fosse sempre nudo e lo tenessero in isolamento perché pazzo furioso c'era anche un tipo che diceva di essere arcivescovo ma lui non faceva altro che mangiare e anche qualcos'altro con vostro rispetto che voi sapete bene come farima e senza che nessuno si vergognasse per questo poi c'era ancora uno che diceva di essere i santi cirillo e metodio pur di avere doppia razione e un altro signore pretendeva di essere gravido e invitava tutti quanti al battesimo fra i reclusi c'erano moltissimi giocatori di scacchi uomini politici pescatori escursionisti collezionisti di francobolli fotografi e pittori uno era là dentro a cagione di certi vecchi vasi che gli pretendeva di chiamare urne cinerarie un altro aveva sempre la camicia di forza perché la smettesse di calcolare quando sarebbe venuta la fine del mondo lì io mi sono incontrato anche con qualche professore uno mi veniva sempre dietro e mi dimostrava che la culla degli zingari era nelle montagne dei giganti e un altro mi spiegava che nell'interno del globo ce n'è un altro molto più grande di quello esterno ognuno poteva dire ciò che voleva e che gli veniva alla lingua come se si fosse al parlamento spesso ci si raccontava delle novelle e si litigava quando succedeva una disgrazia a qualche principessa il più furioso era un signore che diceva ad essere il tomo decimo sesto del vocabolario otto e supplicava a tutti quanti perché lo sfogliassero e vi cercassero la voce rilegatrice altrimenti sarebbe stato perduto e si calmava quando gli mettevano la camicia di forza allora era tutto contento di trovarsi finalmente sotto il torchio a stampa e supplicava di fargli una rilegatura moderna ma per lo più si viveva come in paradiso al manicomio voi potete stridere, urlare, cantare, piangere, zemere, mugire, saltare, pregare, far capriole camminare a quattro zampe, saltellare su un piede, fare il giro tondo, ballare, galloppare stare per terra tutto il giorno e arrampicarvi sui muri nessuno verrà a dirvi signore queste non sono cose da farsi, non è decente lei si dovrebbe vergognare è così che si comporta una persona ben educata? ma a dire il vero là dentro si trovano anche dei pazzi molto quieti tale era il caso di un inventore ben educato che si ficcava continuamente le dita nel naso e gridava una volta ogni ventiquattro ore ho scoperto in questo momento l'elettricità vi ripeto che ci si stava d'incanto e quei pochi giorni trascorsi al manicomio restano fra i più bei momenti della mia vita effettivamente le accoglienze riservate a Schweik dal manicomio dove fu trasferito in osservazione dal tribunale penale superarono ogni sua aspettativa prima lo spogliarono e lo denudarono poi gli dettero un accappatoio e lo portarono a fare un bagno sorreggendolo confidenzialmente sotto le ascelle e nel frattempo uno degli infermieri lo rallegrava raccontandogli delle storielle ebraiche nella sala da bagno lo tuffarono in una vasca d'acqua calda poi lo tirarono fuori e lo misero sotto una doccia d'acqua fredda poi si rifecero tre volte da capo e gli chiesero se gli piaceva Schweik disse che lì si stava meglio che ai bagni pubblici del ponte Carlo e che a lui piaceva molto bagnarsi se mi taglierete ancora le unghie e i capelli non mi mancherà più nulla perché la mia felicità sia perfetta aggiunse con un sorriso di simpatia il suo desiderio fu esaudito e dopo che gli ebbero strofinato la pelle come si deve lo ravvolsero in un lenzuolo e lo portarono su un letto del primo reparto dove lo misero a giacere gli stesero addosso una coperta e lo pregarono di addormentarsi Schweik racconta ancora la cosa con tenerezza figuratevi che m'hanno portato quello che si dice portato e mi pareva di toccare il cielo con un dito e si addormentò nel suo letto con una vera beatitudine più tardi lo svegliarono per offrirgli una tazza di latte e un panino il panino era tagliato a fettine e mentre che uno degli infermieri teneva Schweik per entrambe le mani l'altro inzuppava le fette di pane nel latte e lo imboccava come un'oca da ingrassare dopo che l'ebbero nutrito lo presero sotto le ascelle e lo condussero alla latrina perché soddisfacesse i suoi piccoli e grandi bisogni corporali il racconto che Schweik fa ancora di quel momento è pieno di tenerezza ma io non posso assolutamente citare le sue parole a proposito di ciò che in seguito gli fu fatto posso soltanto dire che Schweik conclude sempre così e nel frattempo uno di loro mi teneva in braccio quando l'ebbero riportato indietro lo rimisero in letto e gli raccomandarono di riaddormentarsi si era appena addormentato che lo risvegliarono un'altra volta e lo condussero nella sala di consultazione dove Schweik al trovarsi completamente nudo e in piedi al cospetto di due dottori si ricordò della gloriosa epoca della leva con un involontario sospiro sulle labbra emisero un tauglich abile idoneo che dite? gli domandò uno dei medici fate cinque passi avanti e cinque indietro Schweik ne fece dieci eppure vi ho ordinato urlò il medico di farne soltanto cinque oh un paio di passi di più a me non costano nulla disse Schweik allora i medici lo invitarono a mettersi a sedere e uno dei due lo battè sopra il ginocchio dopodiché disse all'altro che i riflessi erano perfettamente normali ma il collega scosse la testa e si mise a battere il ginocchio di Schweik per conto suo mentre il primo gli alzava le palpebre e ne esaminava le pupille alla fine fecero ritorno al loro tavolo e pronunziarono qualche frase in latino ditemi sapete cantare? chiese a Schweik uno dei due non potreste mica intonare una canzone per noi? senz'altro signori rispose Schweik io sono completamente sprovvisto di voce ed orecchio musicale ma procurerò di contentarvi se vi volete un po' divertire e Schweik attaccò perché la fronte in mano siete giovane frate e versa piano piano due lacrime salate non so altro riprese a dire Schweik ma se volete potrò cantarvi questo male intorno al cuore che sospiri di dolore guardo guardo l'orizzonte la mia gioia la mia morte anche di questa non so altro sospirò Schweik e poi so ancora la prima strofa di dov'è la mia patria? e poi il generale Vince Grez e gli altri signori della guerra hanno attaccato battaglia dal sorgere del sole e così pure un altro paio di canzoncine popolare come proteggeci nostro signore sulla via di Iarometrice e mille volte ti salutiamo i due medici si scambiarono un'occhiata di intesa e uno dei due chiese a Schweik il vostro stato mentale è già stato esaminato da militare rispose Schweik e con voce solenne i signori medici militari mi hanno ufficialmente riconosciuto come idiota notorio voi mi avete tutta l'aria di un simulatore gridò il secondo dei due io signori protestò Schweik io sono tutt'altro che un simulatore ma un idiota effettivo come vi potranno dire al presidio di Budajovice o all'ufficio di leva del quartiere di Carlin il più anziano dei due medici fece un gesto disperato con la mano e additando Schweik disse agli infermieri restituite gli abiti a quest'uomo e conducetelo al terzo reparto del primo corridoio poi uno ritorni qua e porti tutti i documenti che lo riguardano in ufficio e là dite che ce lo sbrighino subito perché non vogliamo averlo troppo a lungo tra i piedi i medici lo fulminarono con un ultimo e terribile sguardo mentre Schweik usciva rispettosamente a ritroso facendo ogni tanto un inchino di cortesia all'infermiere che gli chiese perché faceva quelle stupidaggini Schweik replicò perché non sono vestito ma nudo e non voglio mostrare a questi signori nulla che possa far loro pensare che io sono un impudente o un maleducato fin dall'istante in cui ebbero l'ordine di restituire gli abiti a Schweik gli infermieri cessarono di rivolgergli la meno ma attenzione gli ordinarono di rivestirsi e uno dei due lo condusse al terzo reparto dove gli toccò ad aspettare e gli fu data la possibilità di finire il suo bravo turno d'osservazione i medici delusi gli rilasciarono un certificato da cui risultava che gli era un simulatore debole di mente ma siccome lo cacciarono fuori prima del pranzo successe un piccolo incidente Schweik protestò dicendo che il fatto che si congedi uno dal manicomio non è una buona ragione per lasciarlo senza mangiare un agente chiamato dal portiere mise fine allo scandalo e accompagnò Schweik al commissariato di polizia di Via della Salma Schweik al commissariato di polizia di Via della Salma alle belle giornate solari del manicomio dovevano seguire per Schweik delle vere e proprie ore di persecuzione l'ispettore Brau preparò la scena del ricevimento di Schweik con una ferocia degna degli ischerani del bansueto imperatore Nerone con la stessa fermezza con cui quelli dicevano gettate questo cialtrone di cristiano ai leoni l'ispettore Brau ordinò ficcatelo in gattabuia né una parola in più né una di meno soltanto i suoi occhi sfavillarono per un istante di una volontà perversa Schweik si inchinò e disse con finezza io sono pronto signori credo che gattabuia non voglia dire altro che reclusione il che non è poi una cosa tanto cattiva qui bisogna lasciarci tranquilli gli fece osservare la guardia carceraria anche Schweik replicò io sono modestissimo e mi contento di qualsiasi cosa farete per me nella cella c'era un uomo seduto sul pancaccio stava lì con tanta apatia che soltanto a guardarlo si capiva che quando la chiave aveva cigolato nella toppa non gli era neanche passato per il capo che potessero venire a metterlo in libertà i miei rispetti signor mio disse Schweik sedendogli accanto sul legno che ore saranno? il tempo ormai non ha più valore per me rispose l'uomo cucitabondo qui non si sta poi tanto male disse Schweik per riattaccare il discorso anche il pancaccio è di legno ben piallato invece di rispondere l'uomo serio si alzò e si mise a passeggiare rapidamente fra la porta e il pancaccio come se avesse l'urgenza di mettere in salvo qualcosa Schweik nel frattempo osservava con interesse le iscrizioni tracciate a carbone sul muro ce n'era una in cui un ignoto prigioniero sfidava la polizia a un duello di vita e di morte il testo suonava così ve la saprò fare inghiottire un altro prigioniero aveva scritto leccatemi il deretano pollastri un terzo si limitava soltanto a constatare un avvenimento io ho trascorso qui la giornata del 5 giugno del 1913 e sono stato trattato come si deve Giuseppe Marecek negoziante Dvescovich più in là ce n'era un'altra che commuoveva per la sua profondità Pietà Padre Eterno e sotto baciatemi il culo la lettera culo era stata cancellata e accanto avevano scritto in lettere maiuscole le code del frac di vicino sarà un'anima poetica che aveva scritto i versi seguenti sto seduto qui sul rio a guardare il sol che muore proprio dove l'amor mio ha le sue dimore l'uomo che correva fra il pancaccio e la porta come se volesse vincere una gara di maratona si fermò tutto anelante e si rimise a sedere al posto di prima poi afferrò la testa fra le mani e gridò all'improvviso lasciatemi andar via ma no non mi lasceranno andar via soggiunse come fra sé mai e poi mai e dire che è dalle sei di stamane che sono qui fu invaso da un accesso di confidenza si alzò in piedi per dire a Shrake per caso lei non ha mica con sé una cintura perché io possa farla finita se non le occorre altro posso servirla ben volentieri rispose Shrake togliendosi la cintura di addosso io non ho ancora visto come fa ad impiccarsi con una cinghia la gente che sta in prigione il male è proseguì dopo aver dato un'occhiata in giro che qui non c'è neanche un gancio la maniglia della finestra non sarà capace di sostenere la sua persona a meno che lei non voglia impiccarsi in ginocchio al pancaccio come fece quel frate del convento di Emmaus che si appesa a un crocifisso a cagione di una ragazza ebrea i suicidi sono la mia passione mettiamoci dunque allegramente all'opera l'uomo triste contemplò la cintura che Shrake gli porgeva la gettò in un cantuccio e si mise a piangere asciugandosi le lacrime con le mani nere ed emettendo gemiti di questo genere io sono padre di famiglia e mi hanno arrestato per ubriachezza e condotta scandalosa oh moglie mia poveretta Gesù Maria e che mi diranno all'ufficio io sono padre di famiglia e mi hanno arrestato per ubriachezza e condotta scandalosa e così via all'infinito finalmente si calmò un poco e si recò fino all'uscio che prese a pugni e a calci dietro all'uscio eccheggiarono dei passi e una voce si può sapere che cosa volete? lasciatemi andar via gemè il disgraziato con la voce di uno che ha ancora ben poco da vivere ma dove? gli domandarono dall'altra parte all'ufficio spiegò l'infelice padre e marito funzionario ubriacone e scioperato una risata atroce eccheggiò nella quieta del corridoio e i passi si riallontanarono ho il sospetto che quel signore le voglia male a ridere in quel modo di lei osservò Shveik mentre lo sciagurato ritornava a sedere accanto a lui un secondino come questo è capace di tutto quando ha del rancore verso qualcuno ma se lei non si vuole più impiccare rimanga pure tranquillo e stia a vedere come vanno a finire le cose se lei è impiegato ammogliato e padre di famiglia la cosa è brutta lo ammetto lei probabilmente suppone che la cacceranno via dall'impiego se non mi sbaglio che vuole che le dica sospirò l'altro se nemmeno io mi ricordo che cosa ho commesso e so solo che ci hanno cacciato non so dove e che io volevo rientrare per farmi accendere il sigaro e dire che la serata era cominciata così bene era l'onomastico del nostro caporeparto e lui ci aveva invitati in una bottiglieria poi siamo andati in un'altra e poi in una terza poi in una quarta poi in una quinta poi in una sesta poi in una settima poi in un'ottava poi in una nona permettete che l'aiuti a contare domandò Schweik io aumentando abbastanza della faccenda una volta ho fatto ventotto locali ma non voglio dir bugie in nessun posto ho bevuto più di tre birre proseguì il povero sottoposto del caporeparto che festeggiava con tanta magnificenza il proprio onomastico dopo che abbiamo visitato una dozzina di bettole ci siamo accorti di aver smarrito il caporeparto sebbene l'avessimo legato a una cordicella e ce lo tirassimo dietro come un cagnolino allora ci siamo messi a cercarlo dappertutto ed è successo che ci siamo perduti l'un con l'altro finché non mi sono ritrovato in un caffè notturno del quartiere dei Vigneti un locale molto decente dove mi sono bevuto una bottiglia di liquore a garganella quello che ho fatto dopo non me lo ricordo più ma so soltanto che quando mi hanno condotto al commissariato i due agenti che mi accompagnavano hanno fatto rapporto che io ero ubriaco che mi ero condotto in maniera ripugnante che avevo picchiato una signora tagliuzzato con un temperino da tasca un cappello non mio che avevo preso in un guardaroba accusato in faccia a tutti il primo cameriere ad avermi rubato venti corone dandomi il resto mandato in frantumi il marmo del tavolino al quale mi ero seduto sputato intenzionalmente nel caffè di un signore vicino questo è tutto o almeno non riesco più a ricordarmi se ne ho commesse ancora delle altre ma mi creda io sono un uomo ordinato e riflessivo che pensa soltanto alla propria famiglia che ne dice io non so mica uno scioperato le c'è voluta molta fatica per spezzare il marmo del tavolino gli chiese con curiosità Schweik invece di dargli una risposta oppure lo ha spaccato in un colpo solo in un colpo solo rispose l'uomo riflessivo allora lei è perduto dice Schweik sovrappensiero le dimostreranno che lei ci si è preparato con un allenamento quotidiano e il caffè di quel signore è quello dove lei ha sputato era un caffè semplice o corretto e senza aspettare la risposta spiegò se era corretto la cosa è peggiore perché costa di più al tribunale si calcola e si addiziona tutto perché ne risulti almeno un reato al tribunale mormorò a bassa voce il coscienzioso padre di famiglia e precipitò la testa china nello stato di chi è divorato dai rimorsi della coscienza alcuni scrittori usano l'espressione arroso invece che divorato io ritengo che questa espressione non sia troppo adatta anche la tigre divora l'uomo ma non lo rode a casa sua lo sanno che lei è dentro chiese Schweik oppure lo sapranno soltanto dai giornali lei crede che la cosa andrà sui giornali domandò ingenuamente la povera vittima del povero caporeparto nulla di più sicuro suonò la chiara risposta di Schweik che non aveva mai l'abitudine di nascondere agli altri i propri pensieri e la sua faccenda piacerà moltissimo a tutti i lettori anch'io mi diverto molto a leggere la cronaca degli ubriachi e delle loro malefatte qualche tempo fa al calice un cliente riuscì addirittura a rompersi la testa con un bicchiere l'aveva gettato contro il soffitto e ci si era messo sotto lo portarono via e la mattina dopo leggemmo la notizia sul giornale un'altra volta Blendovich io ho detti uno schiaffo a un becchino e lui me lo rese per farci fare la pace bisogna che ci mettessero dentro tutti e due e la faccenda venne fuori sulle edizioni del mattino o crede lei che quando al caffè della morte secca quel tal consigliere ruppe due tazze gliela perdonassero anche lui il giorno dopo era sopra ai giornali a lei non resta che mandare ai giornali una smentita qui di prigione dicendo che la notizia pubblicata a suo riguardo non la conosceva affatto e che lei non ha nessun rapporto né di parentela né d'amicizia con quel signore che si chiama come lei e di spedire un'altra lettera alla sua famiglia con la preghiera di ritagliare la notizia e di conservarla perché lei la possa leggere dopo che avrà scontato la pena non le fa mica freddo domandò Schweik con grande interesse quando si accorse che l'uomo riflessivo batteva i denti abbiamo una fine d'estate piuttosto fredda io sono un uomo impossibile c'è me il compagno di Schweik io mi sono rovinato la promozione non c'è dubbio soggiunce Schweik ben volentieri se quando avrà scontata la pena non la riprenderanno in ufficio non credo che lei potrà trovare così facilmente un altro impiego perché tutti quanti anche se si trattasse di far servizio presso un castrino pretenderanno il certificato penale pulito guardi un po' quanto le costa quell'ora di allegria che la esse voluto concedere ma sua moglie e i suoi bambini hanno di che vivere per tutto il tempo della sua reclusione oppure dovrà mendicare o insegnare ai bambini qualche cosa di brutto risuonò un singhiozzo poveri miei bambini povera mia moglie l'incosciente peccatore salzò e si mise a parlare dei propri bambini che ne aveva cinque e che il maggiore aveva dodici anni compiuti ed era iscritto nei giovani esploratori per di più non beveva che acqua e poteva essere d'esempio a suo padre e sarà condotto così male per la prima volta nella sua vita nei giovani esploratori esclamò Schweik io sento parlare molto volentieri dei giovani esploratori una volta Milovarez presso Zliva mandamento di Luboca circondario di Budejovice proprio mentre noi altri dell'ottantunesimo facevamo le nostre esercitazioni i contadini delle vicinanze organizzarono nel bosco de Maniale una battuta di giovani esploratori che vi si erano annidati ne chiapparono tre il più piccino mentre lo legavano si dibetteva gemeva e urlava tanto che noi vecchi soldatacci induriti non potemmo stare a guardarlo e preferimmo andarcene per conto nostro mentre li legavano i tre giovani esploratori morsero otto contadini poi durante il metodico interrogatorio del sindaco confessarono sotto il bastone che nei dintorni non c'era una prateria che non avessero calpestato mentre si riscaldavano al sole e che la piantagione di segale già pronta per la mietitura perso la zic era bruciata per puro caso mentre si stavano arrostendo allo spiedo un capriolo che avevano ammazzato a coltellate nel bosco de Maniale nel loro ricovero nel fitto della foresta fu trovato mezzo quintale di ossi ben succhiati di pollame un mucchio enorme di noccioli di ciliegie un monte di bucce di mele acerbe e di altre cose buone ma il misero padre del giovane esploratore non si lasciò consolare proprio da questo discorso che ho fatto di male gemmeva la mia reputazione è distrutta proprio così osservò sceic con la sua innata gentilezza dopo quello che è successo la sua reputazione sarà rovinata per tutta la vita perché quando la gente leggerà la cosa sui giornali le sue conoscenze ci metteranno anche loro un po' di giunta succede sempre così e non serve a nulla pigliarsela di persone con la reputazione distrutta o macchiata nel mondo ce n'è dieci volte tante di quelle con la coscienza pulita è una cosa insignificante nel corridoio risuonarono dei passi pesanti la chiave cicolò nella serratura la porta s'aprì e un secondino chiama fuori il nome di Schweik scusate disse Schweik con grande cavalleria io sto qui soltanto dalle dodici del pomeriggio mentre quel signore aspetta dalle sei di stamani io non appunto fretta per tutta risposta la solida mano del secondino trascinò Schweik per il corridoio e lo condusse in silenzio su per le scale del primo piano nella seconda stanza stava seduto dietro un tavolino il commissario di polizia un uomo grasso e di aspetto bonario che disse Schweik ah siete voi il celebre Schweik come avete fatto a capitare qua dentro è il più semplice dei modi rispose Schweik ci sono capitato a cagione di un agente perché non mi andava giù che mi avessero cacciato fuori del manicomio senza darmi da mangiare mi hanno trattato quasi come se fossi una venale donna di strada statemi a sentire Schweik disse con simpatia il signor commissario perché qui da noi in via della salma perché qui da noi in via della salma se la dovremmo prendere con voi non sarebbe meglio mandarvi alla questura centrale lei rispose Schweik con calma è quello che si dice il padrone della situazione andare così di sera alla questura centrale è una passeggiatina veramente piacevole sono contento che anche voi ne conveniate disse allegramente il commissario non è vero che è meglio trovarsi d'accordo è vero Schweik oh rispose Schweik io mi accontento così facilmente con tutti creda pure signor commissario che io le resterò sempre grato della bontà si inchinò profondamente si recò il corpo di guardia con un agente e un quarto d'ora dopo lo si poteva vedere all'angolo di via dello strillo in compagnia di un poliziotto che teneva sotto il braccio un enorme libro con sopra la scritta arrestate in Buch registro degli arrestati all'angolo di via bruciata Schweik e il suo accompagnatore si imbatterono in un capannello di persone che si pigiavano intorno a un manifesto che era affisso da poco è il proclama dell'imperatore sulla dichiarazione di guerra disse il poliziotto a Schweik io l'avevo prevista osservò Schweik ma al manicomio non ne sapevano nulla di nulla quantunque avrebbero dovuto ricevere la notizia di prima mano che intendete dire gli domandò il poliziotto perché là dentro ci sono richiusi parecchi ufficiali sfigò Schweik e quando giunse all'altezza di un altro capannello che si pigiava intorno a un nuovo proclama gridò viva l'imperatore Francesco Giuseppe questa guerra la vinceremo una della moltitudine esaltata gli calcò il cappello fino agli orecchi e mentre accorreva folla da ogni parte il buon soldato Schweik varcò per la seconda volta le soglie della questura centrale questa guerra la vinceremo senz'altro ve lo ripeto ancora una volta signori fu con queste parole che Schweik si congedò dalla folla che lo seguiva ma chissà dove nelle remote regioni della storia saliva sull'Europa il presentimento che il futuro avrebbe distrutto tutti i piani del presente dei grazie a tutti